Ciao amici del NAC, buongiorno, ciao, vento alto, siamo qui sulla nave che ci porta all'isola d'Elba, ho registrato il Mavic Mini su di flight, 94 Edo, non sono pochi per la registrazione ma questa è la tariffa che ha il costo di flight, il vento è forte e spero si senta bene, sigla! Siamo qui a Sant'Ilario, posto meraviglioso, il vento è forte su, ho già fatto una prova di volo, si vede che il vento è abbastanza elevato quindi vedremo il comportamento in volo sia del Mavic Mini che dei Parrotanafi, li manderò contro il sole così che vedremo le ottiche di tutte e due come rispondono in controluce, facciamo decollare i droni, sono qui nelle piazzole di decollo, Mavic Mini e Parrotanafi pronti per decollare, ci vediamo in volo, e fate un test Sì, sono qui Grazie a tutti. 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 Allora abbiamo fatto il test, chi vince fra Parrot, Anafi e Mavic Mini? Secondo me colpo di scena vince Parrot, Anafi. Ha vinto Parrot, Anafi perché secondo me ha tre aspetti migliori rispetto al Mavic Mini. Il primo mi è sembrato più veloce, più riattivo ai comandi, anche in salita e nei movimenti, anche nelle imbardate mi è sembrato molto più affidabile. Ho un range di distanza migliore, col vento mi è sembrato sicuramente più stabile. Sicuramente qualche grammo fa la sua differenza. E soprattutto secondo me l'apertura, la dimensione dell'apertura alare e maggiore del Parrot lo aiuta a stabilizzarsi durante il vento. Secondo punto secondo me è il discorso della qualità video. La vedremo nel montaggio ma 2,7K e 4K sicuramente fa un po' di differenza. Quindi anche sulla ripresa video secondo me Parrot, Anafi è superiore al Mavic Mini. Terzo aspetto, sembra un dettaglio ma non lo è, il radiocomando del Mavic Mini ha la rotellina per il movimento della telecamera. Al contrario il Parrot ha una levetta e secondo me è molto più sensibile, molto più facile comandare il movimento della telecamera con la levetta piuttosto che con la rotellina. Anche per questo terzo aspetto vince Parrot, Anafi. Parrot, Anafi, Mavic Mini. Secondo me la scelta la fa il peso. Se volete essere immediatamente operativi, c'è una bambina piccola, se volete lavorare subito senza testato, registrandole e basta, il Mavic Mini non è superabile da nessun altro drone, ha una qualità eccellente, è sicuramente un ottimo di drone, un ottimo di presa video, un ottimo controllo di comandi, ma dal punto di vista di qualità secondo me è superiore del Parrot, Anafi. Quindi la differenza la fa il peso. Se volete un drone immediatamente utilizzabile, Mavic Mini. Se volete un drone con qualche caratteristica in più, sia nel volo che nella qualità video, che nel controllo del radiocomando, dal mio punto di vista vince il Parrot, Anafi. E quindi a questo punto a voi la scelta. Peso o qualità migliore? È una scelta vostra. Ci vediamo la prossima settimana. Attivate la campanellina se volete essere sempre aggiornati. Vi ringrazio di essere iscritti. A presto e buon anno a tutti. Ciao da Donarc. Ciao da Donarc.